Grazie a tutti. Tra 20 e 30 km, mentre invece un luogo molto lontano, che dove ci troviamo adesso, ha una percentuale di radiazioni tre volte tante, quasi tre volte tante. Dipende proprio da dove soffia il vento. Quando è successo il terremoto, questa signora è rimasta dentro per proteggere i mobili, i bicchieri, moltiari che non cadessero. Sono state scosse e ci sono scosse tutti i giorni, livello 3 e livello 4 della scala di per non preoccupare. Dicono che è preoccupante, ci iniziamo a preoccupare soltanto quando superiamo il 7, 8, 8. Non so se queste cose sono pensabili da noi. Questa è il campo per i bambini, ma ora è un luogo. Parking walk. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.